Allora ci sarebbero un litro e mezzo, anzi l'acqua santa va al chilo come l'olio quindi altronde un chilo e mezzo d'acqua santa io te la segno al litro quindi ti fa un po' risparmiare viene in quarantena il chilo quindi capisci allora poi quando si fa così si fa frati no veramente credo ci si mette d'accordo ci sarebbero ripetizioni di catechismo per lei martedì la domenica e sono anche 50 euro a lezioni chiaramente esclusa io perché poi ci si trova d'accordo allora l'ecclesiastica ma l'ostia ce l'ha messa l'ostia te le mettono maggio io grazie grazie ci sarebbe comunque diciamo una preghierina con tre confessioni tre confezioni diciamo una te la faccio pagare e altre due diciamo per quello che ho sentito faccio finta di niente e la prossima volta che gli viene quegli stimoli chiami me perché d'altronde è meglio una mano santa e capisci no cosa voglio dire a lei e quindi allora quante sarebbe in totale in totale in totale sarebbero 1.942 euro 1.700 euro al nero chissà di così e ciao allora guarda te ce l'ho io guardi ah no uuuhu non ce l'ho un po' più forte perché chiaramente queste vanno per gli offendi eh io eh non è che io guardi ci prenda qualche cosa capito no no ci vedi ci vedi ci vedi ma no no prego prego eh allora guarda ci ho queste poi queste qua mi piace queste qua queste qui allora queste qui ecco ora siamo a mille sette sono a mille sette e si fa a pari peggio franelli carabinetti allora eh allora ecco ci siamo ecco io oggi dove voleva arrivare con lei lei bisogna comincia a pensare anche un po' per il futuro diciamo ci sarebbe guardi un'occasione un loco in forno a sant'annemuna bellissimo libero su tre lati ariato diciamo con una bella vista si vede tutta l'istoria si vede tutta l'orenza è bravo perché proprio in alto ariato libero su tutti i lati guardi ci pensi perché di questi tempi si sa se vuoi dare un puntino un fermettino in caso di disgrazia con 500 euro io le faccio avere messa in cruzè messa in cruzè però io direi a me capirebbe più in terra ma in terra oggigiorno non usa più se lei mi dà un fermino diciamo un fermino io anche con 50 euro per dare un'offerta per gli orfanelli io il forno a sant'annemuna glielo prometto che so allora guardi allora va bene via allora fermiamolo guardi gliele do subito un cispenza tanto si fa così tra di noi per gli orfanelli stasera si festeggiano mamma che bellezza guardi mamma ma il signore il signore io la lascio sola gli avevo detto di aver parlato con lei addirittura e vi lascio qui arrivo fra un po' mamma ma salve come ti chiami? Daniele vero? si si Daniele ma io ti seguo sempre ti guardo sempre ti leggo alla messa vai io eh dimmi no abbia pazienza era così per ragazzi cioè io non è per cattiveria se mi dovete chiamare l'ho detto cento volte cento volte l'ho detto non dovete chiamarmi per nulla però giù via ormai tu ci sei via dammi tu un numerino buoni dai per gli gioca almeno si e se ci avevo numeri e gli devi a te e gli devo e io ce l'ho per me a parte allora intanto per l'apparizione sarebbero 500 euro ciccio sono 500 eh eh si va ma come 500 euro? non ho capito per un menuto e neanche? un acro ma lo sai ma io ragazzi ma io ma io capo ma io capo con l'apparizione a me quest'anno mi hanno annullato sette o otto serate ah allora lo do a lei io non ti tocco le stiglierie ai mio amici a donna del cavernetto se li facciamo a due quindi giù mi non peterciano mi non peterciano che sorpresa eh davvero davvero che bellezza e pensare che prima quest'apparizione non ne faceva poi era anche lui da trento d'altronde da trento con questi periodi diciamo di covid un po' di guaffo lo sai si sta per lavorare allora gli ha detto quanti è cachet? e me l'ha detto ma è un po' carino e pensi che prima aveva un'apparizione quindi avevano anche 1000-2000 euro prima di covid quindi in questi tempi ci sarebbe guardi allora tanto guardi 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 per gli orfanelli che c'ho i cani? si c'ho i cani qua i cani? allora intanto guardi e se poi si se questa è la cosa a decisione sua se vuole dare anche un'offertina per gli orfanelli volentieri molto volentieri quanto ci dai? un cinquantino cinquantino? si 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 un cinquantino glielo do volentierissimo io la ringrazio lo metto fino a rigifetto insieme a quegli altri e ci vediamo domattina si per il catenismo mi raccomando se il bambino è dalle suore si bambino è dalle suore perfetto tutto a posto guardi grazie 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 alleluia 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 alleluia